Si sente? Sì, grazie al riprendere una sessione. Ah, parlo in italiano per vari motivi. Primo motivo me l'ha concesso Susana che è il capo e quindi io accetto. Poi è un modo di ricordare Juan Carlos che quando veniva in Italia a differenza delle sue colleghe spagnole che erano molto più precise, non vorrei sbagliare la parola, faceva le sue relazioni in italiano. Era un italiano creativo però si capiva tutto e poi tutti venivano da me e mi dicevano parla benissimo in italiano, è bravissimo, ho capito tutto. Mentre invece le colleghe spagnole, in particolare una che in spagnolo parla alla stessa velocità in cui normalmente parlo io in italiano e che trattava tematiche scientifiche era più difficile da comprendere. Quindi questa relazione in italiano è un omaggio anche a Juan Carlos e poi anche un ultimo motivo che è un motivo politico, no? L'Inghilterra è uscita dall'Europa. Ora mi sta bene che parliamo in francese, siamo ospiti, spagnolo siamo ospiti, ma anche l'italiano alla fine, no? Volendo sono quattro le grandi lingue europee per ora che si potrebbero contendere la lingua dell'Europa, ma anche il tedesco e poi se volete c'è il latino, ma ci sono problemi di pronuncia con il latino. Ora a parte gli scherzi, devo continuare con un'altra cosa che serve per rilassarci, anche perché io non so se ci sarà una pubblicazione di questa giornata, garantisco che la relazione sarà seria, però lo giuro, perché io sono una persona di parola, lo sai, però vorrei rilassarmi un poco e rilassarvi un poco prima di ascoltare le relazioni ben più dense e vorrei iniziare dalla prima relazione, quella in cui si parlava del famoso degli arabi. Ora in Sicilia, a Palermo, io insegno a Messina, ma ci tengo a sottolineare che sono di Palermo e posso attestare che sono palermitano da sette generazioni, anzi da almeno sette generazioni, quando uno, che so, il figlio chiede al papà, che ne so, me la compri la bicicletta, papà gli fa, vuol dire no, non vuol dire non lo so, e il bambino lo sa, lo impara subito, eh? Se poi gli americani non lo sanno e hanno problemi e poi conviene danni in Iraq, perché gli irachieni gli fanno e loro capiscono, eh, non lo sanno, allora dobbiamo proporrelo. È un problema degli americani che dovrebbero sforzarsi un pochino di fare una ginnastica di, come dire, interazione. Noi quel problema non l'abbiamo perché siamo mediterranei e a questo punto iniziamo per quanto è possibile. C'è questa bella fotografia che abbiamo fatto assieme alla Zisa, al piano superiore della Zisa, che già ci si potrebbe fare una relazione, nel senso che questo piano superiore originariamente non era coperto, raccoglieva l'acqua piovana, se guardate dietro Susana e Laura c'è una specie di riquadro luminoso, in verità è la copertura di un vano dal quale l'acqua arrivava dall'alto e poi scendeva giù fino alla sala, diciamo, del trono dove ci sono le mucarnas e poi forse in una grande peschiera davanti. Ah, parlo con storici dell'arte, quindi probabilmente voi conoscete benissimo queste cose, anche meglio di me, perché io sono effettivamente storico, quindi, come dire, ho le mie competenze, ma le vostre in ambito storico-artistico sono necessariamente e incontestabilmente superiori, per cui vi chiedo scusa delle banalità e anche degli errori. Comunque, questo è non solo un falso, perché poi fu coperta questa sala superiore, ma stravolge completamente il senso originario di questa apertura, perché l'acqua non ci deve entrare più. E invece l'acqua, che è l'elemento del quale vorrei parlare e concludere la relazione, è impazzito il computer, appena sentito acqua, è un computer idrofobo, sì, perché io... Ah, sei il tecnico, perché io ero preoccupato, perché chiamandomi tocco di cognome, io tocco tutto e mi viene naturale. Ok. Benissimo. Dicevo, l'importanza dell'acqua, il valore simbolico dell'acqua in architettura, il valore universale che poi l'acqua è anche interculturale, che l'acqua ha, è stato uno degli elementi con i quali Juan Carlos ha, come dire, rafforzato in me certe opinioni sul modo di studiare il Medioevo, tant'è che con un collega toscano abbiamo poi fatto un manuale, proprio negli anni in cui io avevo relazioni con Juan Carlos e con le amiche spagnoli, che infatti si titola Un Medioevo Mediterraneo, quindi Un Medioevo visto dal Mediterraneo, e vabbè poi c'è un sottotitolo. C'è una prospettiva che di solito non è quella che si usa, o perlomeno fino a non molto tempo fa si usava per lo studio del Mediterraneo. Ma andiamo avanti, andiamo avanti, come si fa? Si clicca, io vado, clicco, non succede niente, però io, con la tastiera, giusto, grazie, vai, ci siamo, no, e torna indietro però, è bello questo, vabbè, allora facciamo così, no, 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 so io come fare, qua, diapositiva, però devi ubbidirmi, ubbidisci, ubbidisce, ok. Allora, il titolo della relazione sarebbe incentrata su come Ruggero II crea, perché letteralmente crea, inventa, un regno e nell'inventare il regno e nel recepire, anticipiamo quelle che sono le conclusioni, istanze politiche che se vogliamo sono le istanze politiche della Romanità tradotta in senso, anzi, nemmeno tradotta, ma continuata nella Roma d'Oriente, quello che chiamiamo erroneamente Impero Bizantino, non so voi, ma in Italia c'è questa pessima abitudine, che è molto forviante, perché è l'Impero Romano d'Oriente oggettivamente, e la Romanità, che non è solo Romanità, ma ha un peso notevole, delle, di quelli che sono i grandi, i grandi imperi islamici, d'accordo? Quindi c'è un elemento di partenza che Ruggero II, nella sua, se vogliamo, ignoranza e però disponibilità e capacità enorme nel cogliere il valore politico delle forme e di chi lo consiglia, recepisce immediatamente. Queste immagini sono tratte dal convegno durante il quale ci siamo conosciuti tutti quanti, che avvenne a Granada, nel palazzo di Carlo V, il 13 e il 14 novembre del 2017. Era un convegno sull'incontro tra Oriente e Occidente e io proponevo una relazione in cui sostenevo una cosa forse banale qua, in Italia assolutamente di solito poco accettata, e cioè che i modelli politici del regno di Ruggero tenessero fortemente presente la realtà fatimide contemporanea. Quindi non solo quella bizantina, non solo quella di Costantinopoli, e questo fino a un certo punto si accetta, ma anche quella islamica egiziana, diciamo così. Ciò nonostante le modalità di incoronazione e certi riferimenti formali siano chiaramente quelli che si possono far risalire, diciamo, all'impero carolingio, ma al di là di un'impalcatura occidentale, il regno creato da Ruggero è un regno non occidentale, molto autonomo, che chiameremo Mediterraneo. Regno e forse sarebbe più giusto dire impero, tant'è vero che... ah ecco mi sono dimenticato, il colpo effetto è finito. Vabbè. Nell'ultimo, un volume che ho curato recentissimamente, c'è l'ultimo contributo italiano di Juan Carlos. Questo volume si intitola Sotto lo sguardo di Ruggero e sono gli atti di una giornata di studi che si svolse a Cefalù il 29 febbraio e l'1 marzo del 2020, prima che la catastrofe Covid si abbattesse sull'umanità intera e ci rendesse più cattivi e più scemi di prima, perché non ci ha migliorati, ci ha peggiorati. Chi ci dice che ci ha migliorati è un imbroglione pericoloso. Comunque, torniamo a noi. Ci conoscemmo quindi a Granada in questa occasione e, a quanto pare, Susana mi dice che Juan Carlos apprezzò molto questa mia propensione nel sottolineare la dimensione statunite del modello politico di Ruggero. E lì è iniziato un rapporto strettissimo con tutte loro, tant'è vero che quando ho potuto organizzare dei convegni, prima a Palermo nel novembre del 2018, ed era un convegno che originariamente si chiamava Arte, Scienze e Cultura nella Sicilia Arabo-Normanna, poi è stato pubblicato e ho tolto l'Arabo-Normanna perché è un termine molto pericoloso, e poi a Cefalù, alcune di loro, che era sui rapporti tra Sicilia e Amalti, a Cefalù ad Amalti, infine quello di Cefalù che era su Ruggero II. Non sempre hanno partecipato tutte le componenti del gruppo, uso il femminile perché sono 4 su 5 erano donne e quindi uso il genere di maggioranza, ma Juan Carlos è venuto sempre invece. È venuto sempre e grazie ai suoi contributi, ovviamente anche a quelli delle colleghe, ma soprattutto i contributi legati alla Casa del Sapere, cioè a quella della Zisa e dunque in questo caso entra in gioco anche Susana, mi ha veramente illuminato perché vi svelo un segreto. Vero è che c'era il lavoro della Garofalo citato poco fa, ma in linea di massima ancora oggi a Palermo e non solo le persone qualunque, ma anche gli studiosi, sono convinti che la Zisa fosse un casino di caccia. Cioè, Guglielmo II andava lì per divertirsi, c'erano delle belle donne, tu pure, perché era un poco musulmano e quindi se si poteva concedere certi lussi che un sovrano, se li concedevano pure i sovrani contemporanei, però avevano più sensi di colpa, poi c'erano i preti a dare fastidio, invece lui si divertiva. Abbiamo visto una cosa importantissima, e questa è stata un'intuizione loro, quella era una Casa del Sapere, cioè seguiva un modello evidentemente islamico e comunque evidentemente mediterraneo. L'altro elemento del quale stiamo parlando, questo è il soffitto della Cappella Palatina, a proposito di Mucarnas, anche se qua il discorso è un po' più complicato, e sottolineavo come ci fosse, davanti all'attuale Palazzo dei Normanni, fosse adottato lo schema dell'Iwan, che è anche questo uno schema architettonico tipico dell'architettura fatimide. Adesso non resta più niente, di tutto ciò non solo non resta più niente, io immagino che molti di voi siano stati a Palermo o conoscano quello che si chiama Palazzo dei Normanni, non era un palazzo, era una cittadella fortificata che è stato inscatolato durante il Vicerregno Spagnolo alla fine del Cinquecento e quindi falsa completamente il senso di quella che era una cittadella dalla quale per esempio emergeva la Cappella Palatina. Questi sono esempi anche della chiesa costruita da Giorgio d'Antiochia, cioè l'ammiraglio del Regno di Sicilia e il grandissimo consigliere politico di Ruggero II, e anche in quel caso probabilmente c'era un Iwan davanti a questa chiesa che ancora oggi si può visitare e che ha una superfettazione settecentesca che immagino gli storici dell'arte conoscono benissimo. E aggiungevo, dopo una piena valutazione dei titoli conferiti dai fatimidi a Giorgio d'Antiochia quando comunicavano tra di loro, ciò che impressiona maggiormente è l'uso dell'epiteto onorifico di Ta'id al-Daula, cioè sostegno dello Stato, che recupera un laqab attribuito dai fatimidi ai calbiti siciliani. Quindi c'è anche questa, come possiamo dire, appropriazione del mondo fatimida di tipo politico a ricordare al re di questo nuovo regno occidentale cristiano di Sicilia che la superpotenza del Mediterraneo sono loro ed è con loro che bisogna dialogare. E questo Ruggero II lo sa benissimo e dialoga ampiamente. Dialoga per fare che cosa? Un regno? In Italia sono tutti convinti e insistono moltissimo su questo che Ruggero volesse creare un semplice regno meridionale. La verità è che Ruggero II, come suo padre Ruggero I, e apre una parentesi nella parentesi, è molto importante che Ruggero quando crea il regno si intitoli secondo e non primo. E il regno nasce in quel momento, lui è il primo re di quel regno, sarebbe logico che si intitolasse Ruggero I. Ma per lui, nel suo modo di concepire il potere, suo padre è già re, indipendentemente dal fatto che è conte, cioè che il titolo ufficiale è conte. Il regno c'è già, esisteva già, loro l'hanno recuperato. Era un regno che si era perso nei meandri della storia e che loro rigenerano. E il primo rigeneratore è il padre di Ruggero, l'omonimo. Lui è Ruggero II e fonda un regno intitolandosi primo re ma col titolo di secondo, che non è cosa di poco conto. Qui si sottolinea in questa cartina l'importanza delle conquiste africane di Ruggero II. È una cosa sulla quale ho molto insistito, perché non sono l'unico per fortuna e nel volume di cui vi ho parlato, cioè gli atti del convegno di Cefalù, c'è un contributo di Annick Peter Schiusto e un altro del defunto Jean-Marie Martin, che sostengono, entrambi in maniera diversa, più legata al mondo mediterraneo e più a quello invece, diciamo, centro-europeo Martin, sostengono che se non era un impero, il regno di Ruggero II a un impero, somigliava assai. E che Ruggero non si era posto nessun problema di confini, di dimensioni di quest'impero. Quindi la politica africana di Ruggero II non è un, come dice Caspar nella prima biografia del 1904, è come dire l'energia in eccesso con la quale prende qualcosa in più, ma fa parte di un progetto complessivo, un progetto che guarda pure all'impero bizantino e d'altronde già i suoi antenati, i suoi parenti normanni avevano guardato all'impero bizantino. E veniamo al convegno della Zisa. Questo convegno l'ho già anticipato, l'ho già detto, è stato un punto di svolta per quanto mi riguarda. La Zisa è tutt'altro che un luogo di sollazzo, come si dice usualmente in Italia, cioè luogo di divertimento e di spasso, anche se all'interno di un genoard, quindi di un parco, di un meraviglioso parco dove si poteva cacciare, ma è il luogo in cui il re dialoga con i sapienti. Il re sapiente dialoga con i sapienti. Modello, diciamo, non proprio di gran moda nella cristianità occidentale contemporanea, perché i sapienti di solito si occupano di argomenti religiosi e sono i detentori del potere religioso. Questa immagine l'abbiamo già vista, se ne è parlata ampiamente, e qua vediamo quel vano, questo oggetto qui è uno di quegli armadi, diciamo, in cui probabilmente si conservavano i testi, roto di volumi, quello che volete voi. Quindi una casa del sapere. Ce ne sono moltissimi divani così. Normalmente se voi andate a Palermo e vi fanno visitare la Zisa, chiunque vi dirà che quegli erano gli armadi dove tenivano i vestiti. Ora, io ho sempre pensato, devo dire, anche da quando ero bambino, perché essendo palermitano ho avuto la fortuna di visitare da bambino la Cappella Palatina, il Palazzo dei Normani e anche la Zisa, anche se la Zisa quando è stata restaurata, cioè dal 1981, e non ero più un bambino. Comunque, vi dicevano, no questi sono armadi, e io dicevo, ma sono in una posizione stranissima questi armadi, che senso ha mettere gli armadi così? Evidentemente non sono armadi, e qua Susana e Juan Carlos hanno abbondantemente spiegato di che cosa si tratta. E hanno detto una cosa che scardina quello che è l'abitudine delle storie, delle storiografie nazionali, di cercare la propria attualità e la giustificazione della propria attualità nel passato. È un meccanismo normale, se ne è parlato nella prima relazione, ma il fatto che sia normale, e cioè che ognuno scelga gli occhiali che preferisce, non vuol dire che sono gli occhiali che ci fanno vedere tutta la realtà, sono degli occhiali che ci fanno vedere meglio qualcosa e ci fanno perdere qualcos'altro. Qui, in questo caso, noi, per quanto riguarda la Sicilia normanna e il regno di Ruggero, perdiamo moltissimo, perché non ci rendiamo conto che ci troviamo all'interno di un regno che, ahimè, si trova in un momento di svolta nell'ambito del mondo occidentale e che per motivi dinastici poi non continua, perché poi c'è il matrimonio tra Costanza d'Altavilla e Enrico VI di Einstaufen, la morte prematura di Guglielmo II d'Altavilla, l'insuccesso di Tancredi e la svolta, non immediata, ma imperiale di Federico II di Svevia. Tutti in Sicilia, non so da voi, ma da noi c'è il culto di Federico II di Svevia che sarebbe stato un sovrano illuminatissimo e così via. Bene, credo che fosse molto più illuminato suo nonno che aveva le idee, cioè Ruggero II, che aveva le idee molto più chiare su come gestire il potere in ambito mediterraneo. Non aveva la zavorra dell'impero naturalmente, aveva una politica univoca a Ruggero II, mentre Federico II di Svevia ha una politica, se mi si consente il termine, schizofrenica, perché deve guardare al Mediterraneo e contemporaneamente al regno di Germania. Lo fa con intelligenza, ma non è possibile tenere i piedi su due staffe, un piede su due staffe. Anche questa è una cupola di Mucarnas che si trova nella chiesetta annessa alla Zisa. Mi ha colpito moltissimo che Juan Carlos se ne fosse reso conto. Questa è una fotografia sua di Juan Carlos e quindi ancora una volta c'è questa replica di questo elemento di creazione del mondo. Chi è il sovrano? Il sovrano è quell'uomo colto che in certa misura replica nella possibilità terrena di un uomo, ma di un sovrano. Ruggero II introduce il reato di l'esa maestà e per questo viene chiamato Rex Tyrannus da Bernardo di Caravalle, Bernardo Caravalle, perché naturalmente si sta arrogando il potere lui di gestire la vita e la morte degli uomini. Non deroga al Papa o ai sacerdoti. Ed è Rex Tyrannus per questo. Ma in verità Rex Tyrannus replica, ripete, recepisce lui e i suoi successori una realtà, lo so che siamo a un minuto, una realtà mediterranea, islamica in questo caso, ma non solo. Sempre soffitto alla Cappella Palatina e veniamo all'ultima cosa. Questa è la Fontana del Chiostro di Monreale, quindi Guglielmo II, la Zise, Guglielmo I, Guglielmo II, quindi i continuatori di Ruggero I. Continuatori che però perseguono una certa politica e un certo modello. E qui abbiamo questa acqua che viene stilizzata nello zigzag, quello zigzagheare di cui parla proprio Juan Carlos nella sua ultima relazione zigzagheare, che vediamo pure nella parte inferiore degli archi, perché fa notare che la forma di questo zigzaghe è più morbida di quello di sopra, che richiama l'acqua primigenia che crea l'universo. Questa è la facciata del Duomo di Cefalù. Di Ruggero d'Antiochia ne abbiamo già parlato. Ho messo l'immagine qui perché quello che voglio direi che certamente Ruggero II non crea il suo sapere dal nulla. Ha dei grandi maestri, uno è Cristo duro e l'altro è Giorgio d'Antiochia. Giorgio d'Antiochia è un uomo veramente di intersezione tra il Medio Oriente, tra la cultura islamica, tra la cultura, chiamiamola, bizantina e anche quello occidentale. E si fa ben guidare perché i grandi sovrani sono quelli che si fanno guidare bene e che si confrontano come recitano le fonti per lui. Qui è l'incoronazione e infine questa è la copertina del libro sotto lo sguardo di Ruggero. Mi dispiace non averla portata, però voglio concludere con le parole di Juan Carlos. Faccio come lui, faccio lo spagnolo come lui faceva l'italiano, quindi pronunzierò e dirò alcune castronerie, ma credo che sarà comprensibile. Sicilia, la corona di Castiglia e Leone, independientemente della confesione religiosa di sus governanti e promotori, erano capace di generare sinergias artistiche che possibilitarono la génesis di edifici magnifici entre i secoli XII e XVI, non so come si dice, la conveguità dei sui mensaggi solo saranno comprensibile di maniera completa se asumiamo la existenza di múltiplici linguaggi, entre i che anche occupa il linguaggio islamico internazionale, junto a altri in qualità di ugualdad. Poco a poco, questa è la cosa cruciale ed è il lascito di Juan Carlos che io ringrazio sempre per questo, debbiamo abrire e coniugare in un contesto più ampio planteamientos historiografici del passato all'evidenziarsi la presenza di marcos culturali supranazionali, molto ampi, che si entrelazano, enricchentano e incadenano, senza meno capo, dei suoi particolarismi. E dunque, la morte del nazionalismo, che è ciò che ancora oggi mortifica la politica, al giorno d'oggi, è la cultura. Il nostro grande nemico si chiama nazionalismo, nel Medioevo non c'era. Grazie Juan Carlos.